L'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale della Sicilia ha da sempre rappresentato il centro di riferimento per la classe veterinaria sul territorio e da oggi darà anche un concreto supporto ai servizi dell'ASP, mettendo a disposizione le proprie salie operatorie per la sterilizzazione dei cani randaggi e favorire quindi lo sgombero del canile municipale di Palermo in attesa di ristrutturazione. Lo scopo finale di tutti quelli che si occupano di sanità pubblica è quello di poter effettuare un controllo sugli animali quindi microcippandoli, facendo una visita clinica e poi degli accertamenti di laboratorio che facciamo noi all'interno dell'Istituto Zoo Profilattico Sperimentale della Sicilia se è del caso anche fare un intervento chirurgico e poi rimettere gli animali nel territorio. È il nostro intendimento come amministrazione procedere alla progettazione di un nuovo rifugio che abbia dei canoni moderni e risponda a quello che non deve essere una prigione per gli animali che sono ricoverati bensì un parco dove poter vivere quel periodo che speriamo sia sempre limitato visto che la politica deve essere rivolta in collaborazione con le associazioni animaliste soprattutto alla sterilizzazione ma anche alle adozioni.